L'amore di Gesù per i giovani. Figlia mia, uno dei più grandi amori del cuore di Gesù fu, ed è quello per la gioventù. Egli amò di un amore di predilezione Giovanni, così come ama e predilige tutti i giovani della terra. Egli li attira al suo cuore in mille modi, e mentre li mette a parte dei suoi desideri, li incita a compiere opere meravigliose di bene a gloria di Dio e a beneficio dell'umanità. Quale pena però per Gesù vedere molti che non capiscono, che non assecondano e che si ribellano alla sua volontà. Egli vuole la loro felicità, ed essi la cercano in amori proibiti e impuri. La soddisfazione dei sensi, la curiosità e la malizia appagate, trascinano la gioventù nel vizio, e dal peccato passano molte volte alla disperazione e al delitto. I giovani vengono molte volte strumentalizzati nella politica ed eccitati alla violenza, all'anarchia e alla guerra. Le giovani vite in cui la famiglia, la società, e la patria dovrebbero poter riporre le loro speranze, ne diventano così spesso la rovina. Gesù, che chiama i giovani alla sua chiesa, poiché la messa è molta, e gli operai sono pochi, vede i giovani che gli voltano le spalle, come il giovane del Vangelo. La droga, la pornografia e il vizio finiscono per rovinare l'anima e il corpo di questi giovani che, invecchiati anzitempo, si prestano ad essere manovrati da Satana. Prega per la gioventù, figlia mia, perché, risanata nello spirito, senta entusiasmo per il bene, il vero bene, quello che dona felicità eterna.